Finalmente si torna in piazza, non ascoltami in tante città italiane, compresa Pescara, un'occasione importante per fare prevenzione. Senza dubbio una giornata così bella, di sole, di festa, è la ricetta giusta, è il contesto giusto per affrontare un problema che troppo spesso è trascurato. Perché sappiamo che il problema di udito isola, crea imbarazzo, crea delle barriere tra le persone e questo oggi non possiamo più permettercelo. Ce l'ha insegnato la pandemia, il lockdown, le mascherine che oggi senza un buon udito perdiamo la relazione con i nostri cari e perdiamo anche un pezzo di vita. Ecco perché torniamo in piazza, torniamo in piazza con gli ospedali, con gli esperti dell'udito che possano dare un consiglio perché noi vogliamo parlare di questo senso così importante prima di tutto ai tanti bambini che affollano anche quelle nostre piazze con lo sport, avete visto il basket, il rugby, le animazioni. Perché in fondo noi parliamo alla famiglia intera, attenzione all'udito, l'udito una volta perso non si recupera e questo è un tema molto importante, dobbiamo proteggerlo. E anche arrivati a una certa età se non sentiamo bene dobbiamo intervenire, dobbiamo chiedere agli esperti cosa posso fare per essere ancora attivo, brillante. Ecco questa è la missione di Nonno Ascolta. Ogni giorno leggevo in Italia circa 30 persone scoprono di avere disturbi dell'udito. Sì, che quindi non sono solamente anziani per i quali è prevedibile ma sono anche adulti e giovani perché come dicevo noi siamo circondati dai suoni dei quali alle volte abusiamo. Quindi pensare alla musica a volume molto intenso, quindi palestre direi anche, concerti e discoteche. Ma poi anche l'utilizzo subdolo, questo direi che ognuno di noi fa per molte ore al giorno, mentre questo in passato non avveniva in questi termini, dell'utilizzo del telefonino e anche delle cuffiette. Ci sono giovani che passano ore con le cuffiette. Non si può pensare che l'orecchio umano non si lamenti o non si lamenterà in futuro dell'utilizzo di questi suoni. Stessa cosa al cellulare. Una volta si telefonava, si comunicava, si diceva vengo, non vengo, ci vediamo. Invece adesso al cellulare ore, ore, ore perché te lo porti indietro. Non si può pensare che l'orecchio umano non un giorno non presenterà il conto.